Sicuramente questa partita vale molto di più per loro e dobbiamo sfruttare questo perché più la partita sarà combattuta saranno più nervosi. Secondo me dobbiamo dall'inizio iniziare forte specialmente in difesa e stare concentrati tutta la partita. Ogni partita è importante però prima di tutto le ultime tre partite vogliamo sfruttare per migliorare il nostro gioco. In questo momento meno importante iniziamo il play-off dal secondo o terzo posto però più importante che forma siamo.